Una conferenza stampa per affrontare ancora una volta il tema scottante e purtroppo attuale del degrado in città. La sicurezza non può essere una clava che viene utilizzata a seconda delle convenienze. La cittaderezza in questo momento ha delle difficoltà. C'è una parte dei giovani che stanno rischiando di finire nella marginalità. Ci sono aggressioni rivolte da alcuni adolescenti e loro coetani. Ci sono situazioni di difficoltà allo spaccio che riguarda molte zone di questa città con un consumo di stupefacenti in questa città che è tra i più elevati in Italia. Ci sono problematiche riguardo a episodi che hanno coinvolto la polizia locale che non è dotata talvolta di strumenti necessari. C'è la necessità di una maggiore presenza nell'amministrazione e di una compartecipazione in una rete di protezione con i propri concittadini. In questo momento Arezzo sta sbandando pericolosamente. C'è qualcuno che si preoccupa del degrado della sicurezza solo quando è in campagna elettorale? Temo proprio di sì perché ricordiamo tutti i cartelloni, le richieste, la promessa di aprire un ufficio della Polizia Municipale in piazza Pudu Monaco che è sempre chiuso. E anche su questo ci domandiamo perché continua a essere sempre chiuso. Insomma la città ha bisogno di ascolto, partecipazione. Pochi giorni fa noi eravamo con Scelguarezzo in una zona via Pappini che è stata insieme ad altre strade limitrofe costellata di furti nelle abitazioni. A volte i cittadini chiedono anche un punto di riferimento nel quale potersi confrontare. Poi ci sono le forze dell'ordine che fanno benissimo il loro lavoro ma questa tenuta della comunità che passa dalla scuola, delle associazioni e da altri soggetti in questo momento non c'è. Perché forse manca la politica e il coordinamento da parte dell'amministrazione comunale. Durante la pandemia sappiamo tutti che si è parlato molto di un drone che doveva controllare i cittadini per il rispetto alle regole del lockdown. Quel drone è costato con più impegni di spesa circa più di 30.000 euro. Si poteva comprare, magari farlo utilizzare a qualche nostro vigile urbano, magari fargli prendere il patentino sempre che qualche nostro collaboratore dell'amministrazione non abbia già il patentino per poterlo utilizzare. Quindi si è dato tanto forza a quello e poi magari mandiamo i nostri vigili urbani a contrastare i momenti di disagio, magari in maniche corte. Poi rischiamo episodi come quello di Piazza della Badia dove chiaramente un agente è stato colpito e ferito al volto. Mi era davvero preoccupante perché poteva metterci molto di più della già ferita pesante che ha avuto al sopracciglio e al setto nasale. Grazie.